filo 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 dobbiamo fare un video filo filo siamo indietro col programma ti devi svegliare muoviti filo dobbiamo tirare giù un'idea solo per tirare giù un'idea ci metteremo le ore quindi devi darmi una mano per favore sono venuto qui apposta io sono un uomo impegnato si lo vedo ma dobbiamo tirare giù un'idea per fare un video non abbiamo più tempo filo è da una settimana che non carichiamo un video su youtube la gente si starà già dimenticando di noi ho bisogno di te mi licenzio